Ciao, benvenuto o benvenuta sul mio canale Fairy ASMR grazie per aver scelto questo video rilassante oggi proviamo insieme una seduta di ipnosi per farti addormentare e come avrai letto il titolo o forse come starai già sperimentato durante l'ascolto, l'audio di questo video sarà in 8D quindi un esperimento del tutto particolare che condurremo insieme con l'ausilia delle cuffie purea degli auricolari che ti chiedo di indossare naturalmente scegli anche un posto comodo per poterti distendere e segui semplicemente le istruzioni della mia voce l'effetto di questo video sarà molto molto immersivo e sentirai il suono provenire da varie fonti attorno a te lasciati abbracciare da questo suono lasciati travolgere bene, non c'è altro se l'idea di questo video ti piace naturalmente fammelo sapere lasciate un bel mi piace e se ancora non sei iscritto o iscritta a questo canale puoi fare applicando il bottone qui sotto e naturalmente la per non perdere i prossimi video rilassati lasciarvi un commento per dirmi se vuoi altri video di questo tipo e noi iniziamo allora, per questa seduta di ipnosi mi raccomando abbassa le luci e cerca di mantenere con me il contatto visivo fin quando non sentire gli occhi pesanti le palpe prechiudersi spontaneamente iniziamo prendendo un bel respiro profondo e buttando fuori tutta l'aria questo respiro serve per riequilibrare il tuo stato emotivo e anche la tua funzione cardiaca respiratoria la circolazione del sangue procedi prendendo un nuovo respiro profondo e questa volta immagina ti far penetrare dentro di te mentre inspiri l'oscurità della notte farlo scendere dentro di te trattieni trattieni quest'aria e questa notte dentro di te per qualche secondo fai sì che raggiunga tutte le tue membra fino alla punta delle tete e poi e poi ispirando lasciando via la negatività dei cattivi pensieri ripetiamo ancora con il terzo con il terzo respiro profondo fai entrare questa oscurità che ti protegge l'oscurità della notte dentro di te mantieni mantieni l'aria all'interno dei termoni e immagina che il nero della notte raggiunga tutte 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 le parti del tuo corpo e poi cacciano via ispirando i pensieri negativi allontanali da te bene adesso siamo pronti per affrontare questa seconda parte della sessione di ipnosi durante questa seconda parte ti chiedo di concentrarti sul ciondolo che ti mostrerò il ciondolo la figura è la luna e una stella lo lascerò oscillare lentamente e tu segui l'oscillazione che sarà inizialmente più veloce poi più lenta e l'oscillo rilassati 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 e lascia di andare non pensare a nulla affidati completamente a me e lasciati andare lasciati andare ma renditi andrà tutto bene? ci pensi? ora che sei abbastanza concentrato o concentrata posso iniziare la terza fase di questa sessione ti chiedo di guardarmi negli occhi e di fare esattamente ciò che ti dico so che il tuo corpo è sempre più rilassato so che senti le tue mani pesanti e che non hai alcuna voglia di muoverti so che è difficile adesso spostare le tue gambe le senti sempre più pesanti ad ogni parola che pronuncia ti senti ti senti pesante un tutt'uno con la superficie sulla quale ti appoggi non c'è alcun motivo di muoverti all'interno all'interno del tuo corpo c'è un'oscurità protettrice e benevola che ti pervade all'esterno c'è la coperta della notte è una coperta calda che ti dà tepore non hai alcuna voglia di muoverti non hai alcun desiderio di muoverti non hai alcuna intenzione di muoverti resta dove sei fermo ferma e ascolta ascolta la mia voce che ti culla dolcemente hai mandato a mia tutti i cattivi pensieri nella tua mente non c'è più nemmeno un pensiero solo la mia voce e adesso senti anche le tue palpite farsi pesanti senti senti che gli occhi man mano si chiamano cerchi di seguire ancora i movimenti leggi delle mie mani le tue palpite l'acqua hai tanto su tanto su tanto su tanto su vuoi veramente tanto 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 su perché perché è il momento di dormire sei completamente primo primo di forza che vuoi solo riposare vuoi solo tutti i suoni provenienti dall'esterno non sono importati senti solo la mia voce che gira attorno a te senti le mie parole come carenze in una giostra che ti gira intorno confonde sempre più la tua mente razionale per l'ossare spazio al sol al sol ora chiudi gli occhi e riposa potrai tornare su questa idea ogni volta che lo desidererai ma adesso è il momento di dormire perché dormendo recupererai le tue energie e sarai nuovamente in forza domani al tuo rispetto buonanotte buonanotte ci vediamo se ti va al prossimo video ciao ciao